Ciao a tutti da Nicola Castiglione e dalla Selezione Nazionale dei Piloti. Mamma mia che gara! Che Gran Premio di Monza incredibile, ragazzi! La cosa che ci fa capire che ci sarà tanto da parlare è quando, finito il Gran Premio, mi arrivano un sacco di messaggi con tutti voi che mi chiedete sono curioso di sapere cosa ne pensi, sono curioso di ascoltare le tue parole, di guardare il tuo video, e questo a me fa un piacere incredibile. Non potete capire quanto piacere mi faccio, ho preso il mio bel quaderno degli appunti, quanto piacere mi faccia sentire che avete voglia di sapere cosa ne penso io. Bene, allora, innanzitutto iniziamo dicendovi che, colgo l'occasione, se questo video vi piace vi prego di lasciare un messaggio, di mettere un like, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Bene, allora, incidente pazzesco, ancora una volta i due si sono toccati, ancora una volta i due sono finiti fuori pista tra Hamilton e Verstappen. Allora, secondo me il contatto è stato intenzionale, voluto da parte di Verstappen, sapeva benissimo che Hamilton non gli avrebbe dato strada, sapeva benissimo che, tenendo giù il piede, le due macchine si sarebbero toccate. Però, in fin dei conti, se ci pensiamo, questa cosa gli è tornata utile, perché è uscito da una pista che vedeva sfavorita, la Red Bull, con due punti guadagnati sul suo rivale. Bene, noi ci siamo divertiti, però dobbiamo analizzare la cosa sempre con l'occhio professionale, pensando e chiedendoci una cosa. È giusto tutto questo? È giusto che questi due ragazzi vadano così al limite e oltre il limite? Perché dobbiamo considerare una cosa, guardate questa foto, la testa di Hamilton per un attimo, schiacciata dalla ruota di Verstappen, la posteriore destra. Allora, un dato certo è che l'alo non ci fosse stato, Hamilton oggi non ci sarebbe più, perché con la ruota Verstappen avrebbe letteralmente schiacciato Hamilton. Io dico che neanche Max avrebbe voluto questo minimo contatto, però quando vai così al limite, quando tiri una mina del genere al tuo avversario, non puoi prevedere come il contatto andrà a finire. Questo tipo di incidente mi somiglia tantissimo a quello avvenuto nel 94 tra Schumacher e Hill. lo Schumacher che tutti abbiamo adorato, a inizio carriera ha vinto il primo mondiale, a mio avviso non me ne vogliono i suoi tifosi in maniera sporca, chiudendo Hill e facendo ritirare entrambe le macchine, lui era in vantaggio, in classifica mondiale ha vinto. Però c'è una differenza sostanziale. Allora, era l'ultima gara, allora quella gara decideva il mondiale. Qui invece abbiamo visto prima Imola, poi Silverstone, poi all'inizio della gara il quasi contatto tra i due alla variante dell'arrogia. Andiamo ad analizzare appunto quello che è successo alla variante dell'arrogia. Vediamo che Hamilton al punto di corda come potete vedere dalla foto è a mezza macchina da Verstappen, cioè la sua ruota anteriore sinistra va e all'altezza della fiancata come appunto potete vedere dalla foto. Subito dopo Max avendo diritto di traiettoria c'è poco fair play tra i due allarga Hamilton esattamente come Imola anzi anche no perché a Imola le due macchine erano totalmente appaiate alla variante del tamburello Hamilton allarga la traiettoria taglia la chicane non guadagna nulla e alla fine alla peggio. Ebbene un attimo dopo dopo il pit dei due che tra l'altro le due scuderie hanno cannato entrambe perché il tempo perso da Max con quella ruota è stato molto di più poi però una volta cambiate le gomme Max aveva appena fatto segnare il giro più veloce come possiamo vedere anche dalla grafica e aveva recuperato tanto su un Hamilton che a sua volta aveva avuto un pit infelice perché una delle quattro ruote non andava a posto i team sono sotto pressione in maniera incredibile comunque Hamilton esce con mezza macchina di vantaggio con questa affronta la prima la prima variante di Monza la prima S come potete vedere alle foto sono esattamente nella stessa identica condizione che i due si sono trovati però a parti invertite alla variante della roggia a inizio gara ebbene Verstappen ha la ruota anteriore destra all'altezza della fiancata della macchina di Hamilton di Lewis a quel punto lì vedendo da questa inquadratura Lewis punta già la corda del secondo cordolo della variante dove in quel momento lì c'è una delle due McLaren qui Verstappen avrebbe dovuto tagliare la S e ridare poi la posizione come si fa? lui no lui tiene giù va a prendere il salsicciotto arancione la macchina si solleva lui perde il controllo e vola sulla testa di Hamilton che ripeto grazie all'alo ha la vita salva da questa immagine vediamo esattamente che Verstappen è con la sua ruota all'altezza del diciamo la fiancata il pilota cioè all'altezza del a mezza macchina ancora da sopravvanzare quindi per quel che sono le regole oggi in Formula 1 per come vengono applicate vi rendete conto che Hamilton lì aveva diritto di trattoria ora è ovvio che da un lato i tifosi di Hamilton dicono Verstappen ha sbagliato dall'altro i tifosi di Verstappen diranno Hamilton l'ha fatto altre volte Hamilton in passato correva così e doveva lasciare lo spazio la verità è che questi due ragazzi forse stanno un po' perdendo la misura il controllo della situazione già siamo a tre contatti buoni più qualche altra piccola toccata qualche altro accompagnamento ora ragazzi secondo me la misura è colma fa bene la FIA intervenire con tre posizioni di penalità però ragazzi io avrei dato qualcosina di più e soprattutto anche dando tre posizioni di penalità che fanno il pari con dieci secondi di penalità che ha ricevuto Hamilton a Silveston i due vanno richiamati i due vanno richiamati vanno fatti confrontare soprattutto vanno tenuti a bada da una FIA che in questo momento nelle mani di Michael Masi mi sembra un po' allo sbando ora in passato c'era molto più polso molto più controllo della situazione andiamo avanti voglio citare due interventi uno di Carlo Abate che mi ha detto non ho capito perché Max non ha tagliato la chicane come hanno fatto in diverse occasioni Peres Leclerc e via dicendo ne abbiamo viste di queste cose qua perché perché lui ha calcolato che se fossero finiti tutte e due fuori in quel momento lui ne avrebbe tratto vantaggio infatti l'ha sottolineato in una dichiarazione la cosa che è andata bene è che tutte e due non abbiamo potuto continuare ha detto e quindi nessuno nei due ne ha tratto vantaggio in realtà questo secondo me era l'unico gran premio dove la Mercedes aveva un certo vantaggio sulla Red Bull quattro decimi a questo punto del campionato il favorito d'obbligo è Verstappen ebbene Verstappen ha fatto bene i conti perché è uscito da questo weekend come ha detto a inizio puntata con due punti di magica quindi è il favorito d'obbligo per il titolo non c'è dubbio la Red Bull si adatta meglio della Mercedes un po' a tutte le piste e lo abbiamo visto qui al di là dei quattro decimi di distacco in prova quanto fosse competitiva in gara poi ancora tutte le piste che verranno secondo me sono più pro Red Bull ebbene Max è il favorito d'obbligo però Max deve smetterla Verstappen deve smetterla di essere così fallosa a volte i campionati si vincono anche alzando il piede e i piloti del passato lo dimostrano Antonio Condorelli mi fa un altro intervento molto ad hoc ovvero l'Alo ha salvato la vita a Hamilton sì esattamente così non si può mai sapere come vadano a finire gli incidenti ecco perché sono convintissimo che la FIA deve intervenire andando avanti con i temi del Gran Premio abbiamo una McLaren una Orange un Team Orange stavolta parliamo di Team Orange che ha fatto un 1-2 pazzesco la scuderia inglese è cresciuta tantissimo sono contentissimo per Ricciardo sono contentissimo per Norris hanno fatto una gara incredibile fa piacere vederli sul podio io mi auguro che nel 2022 è una cosa un po' utopistica possiamo vedere tutti i costruttori tutti i team andare a lottare per il mondiale con le nuove regole o perlomeno per la vittoria mi piacerebbe vedere alla pari Red Bull Ferrari Mercedes Alpine McLaren Aston Martin sarebbe una cosa fantastica utopistica ma fantastica pensate quanto sarebbe bello un mondiale così poi ancora altro altro punto di discussione che gara fantastica ha fatto Leclerc una gara capolavoro a volte questo sport non rende abbastanza merito cerchiamo di farlo noi alla qualità che mettono in campo i piloti Leclerc ha fatto una gara da paura è stato semplicemente perfetto in tutto avessero avuto in Ferrari un pochino di velocità di punta in più oggi noi festeggeremmo sono sicuro un secondo posto peccato invece per Giovinazzi e qui vi voglio fare notare una cosa come io temo e credo che il suo tempo in alfa sia finito non tanto per l'errore che Antonio ha commesso su Sainz infatti ha preso la penalità durante il primo giro aveva fatto una partenza strepitosa una qualifica ancora di più e una sprint race capolavoro peccato per Antonio che ancora una volta non concretizza e qui l'errore è suo però vi faccio vedere una cosa Vasser a fine gara ha detto che peccato per noi un'occasione sprecata e poi ha elogiato la gara di Kubiza che comunque è finito dietro a Giovinazzi questo ti fa capire che il pilota di Martina Franca non è più ben accetto dentro la scuderia speriamo che cambino idea ma temo che non sarà così e poi ancora a proposito di Olimpiadi che è stato bello vedere tutte le medaglie d'oro lì presenti sulla griglia ragazzi fantastico l'Italia quest'anno è stata portata in alto dai calciatori è stata portata in alto dai ragazzi delle Olimpiadi ben 40 record mi sarebbe piaciuto vederli tutti perché anche un argento olimpionico un bronzo olimpionico vale tantissimo e questi ragazzi sono poco sotto le luci della ribalta però bello bello veramente grazie da appassionato da sportivo vi dico grazie come ringrazio non dobbiamo solo parlare di Formula 1 i colori italiani con Peco Bagnaia e la Ducati sono stati portati in alto proprio ad Aragon nello stesso weekend dalla prima strepitosa vittoria in carriera da parte appunto del pilota italiano che ha tenuto a bada un Marquez che sembrava tornato quello dei momenti migliori e ragazzi io vi dico una cosa da Marquez non me ne vogliono i tifosi di Valentino anche io sono un tifoso di Valentino dobbiamo prendere esempio per questa sua tenacia per questa sua voglia di ritornare in alto nonostante gli strazianti dolori fisici bravo Marquez sono felice che abbia vinto Peco però Marquez è da esempio a tutti noi non solo ai giovani ancora poi punto un altro punto di questa trasmissione volevo fare gli applausi a Thomas Calvagni che ha vinto gara 1 nella classifica challenge a Varano dei melegari ed è stato poi buttato fuori in gara 2 dove stava andando ancora meglio perché era messo benissimo per l'assoluta grande rimonta poi quindi bravo Thomas volevo farvi vedere questa foto di Maurizio Rizzo a Monza con la Formula 3 noi abbiamo piloti in SN1 che davvero sono di alto spessore Maurizio l'ha postata proprio in questi giorni è un suo test a Monza con appunto la Formula 3 lì andò veramente veramente benissimo facendo segnare tempi assoluti quindi volevo mettere in risalto questi due piloti e ci aggiungo anche Antonio Cirelli da Milano vicinissimo a Monza ebbene ragazzi Antonio avrebbe potuto andare in autodromo viversi un weekend di motori a 360 gradi ha preferito viverlo a 380 essendo lui il protagonista venendo qui giù in Sicilia da noi per continuare il suo apprendistato i suoi test i suoi corsi e arrivare sempre più in alto in SN1 io sono sicuro che tutti questi sacrifici verranno ripagati e che Antonio presto sarà gusterà un po' come Peca o Bagnaia la prima vittoria in SN1 chiudo con due note una di colore arancione non per la vittoria della McLaren ma per queste immagini che voi state vedendo di una manifestazione fatta da Sicilia Antica organizzata a Centuri è bellissima una roba stratosferica veramente molto molto divertente per i bambini si corre in discesa con da noi si chiamano carrozze più conosciute come carrioli con cuscine che si muovono su cuscinetti a pallini mamma quanto mi sono divertito io immaginate quanto si siano divertiti tutti i bambini che state vedendo in foto è una manifestazione che non ha età che ogni volta che si svolge stiamo tutti col sorriso e correvano anche i grandi come potete vedere e scorgere da qualche fotografia e tutti noi stiamo col sorriso dalla mattina alla sera che bella che bella veramente un applauso ai ragazzi di Sicilia Antica che vanno che permettono e ci permettono di vivere queste emozioni infine faccio un promo di uno dei video io so che molti di voi che guardano questi video sono cartisti allora vi rimando a un video che ho fatto tempo addietro sul funzionamento della sale del go-kart sapere come funziona il vostro mezzo vi aiuta a sfruttarlo al massimo niente abbiamo finito puntata davvero incandescente sono curioso di sentire il vostro parere quindi giù in descrizione scrivetemi se è stata colpa più di Verstappen più di Hamilton se siete d'accordo con la penalità detto questo vi abbraccio vi mando un bacio vi saluto e vi rimando al prossimo video soci russia ciao 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 ciao